Salve a tutti amici di Youtube, eccoci qui nel primo Trade Binder insieme alla mia ragazza Salve Ecco, prima di procedere con l'illustrazione dell'album vorrei premettere che alcune carte non le do, a parte per valore affettivo, anche perchè dovrei utilizzarle e inserirle in alcuni mazzi Vabbè, partiamo col video, si vede la prima fila? Ok, Burn Secret, Stardust Super, Gunnir, Black Vinged Dragon, Direwolf Secret, Alarmata Gold, Crinosauro, due Fire Fist, Tiger King, uno Ultimate, vabbè, carte synchro un po' random Darcy Demon Ultra, la Genesi del Duellante mi sa, che si chiamava l'espansione, non mi ricordo nulla, vabbè, e quest, Secret da Tin, segui sempre il mio dito, resta d'arcobaleno, Secret, ok, ma pure le common non ho messo, wow, sempre un po' di carte random, che già c'erano, carte inutili, vabbè, però chi le colleziona, questo è Secret, Ultra, Super, Super, Super Raro, Super, non Secret, ne ho anche uno Secret, numero 39 Ultra, Fotonico, come si chiama, Papilloperative, Common questo, Ultra questi, Raro, Ultra, Raro, Raro, vabbè, Super, Secret, Ultra, Ultra, Super, Common, ne dovrebbero essere due, se lo sbaglio due, sì, due, non so le carte che vengono giocate, o meglio, non per bene, vabbè, tutti i due common, due Secret, se non erro, una collezione leggendaria, una da Pac-Ra, come cavolo si chiama, raggiallo, poi da Gold Common, Super, Purio Dara, poi base random, psichico, questo è super, ovviamente, non mi cacchio, si chiama, Rockstan, mi sembra, base Karakuri, un Mac Fortezza, così, base TG Skill, che signor dovrebbero essere tre, di fatti, tornate dentro, torna, da dove ciò è venuto, poi, piccola base Fire Fist, dell'epoca, vabbè, un Bear, si può procurare, chiuso, Ultimate, super, base GB, questa non la do, non me la chiedete, quindi, Secret, 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 Common, Gold Super, Super Ultra, quale dovrebbero essere tre, Super Common, Rara, base random, 6, navicella Super, eh, Turbo Secret, lei come la odia? Wow, c'è pure questo tizio, wow, non lo sa più, faccio le scoperte, che non so, il Secret, 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 Secret figo, americano, Secret, Ultimate, Ultra, lo dico lo stesso però, tre Ultra da Starter Deck, se si dice così, non lo so, Gold, Secret, Super, Super, Gold, Super, Ultra, Ultra, Super, Ultra, Secret, ma non c'è un pianista, Super, 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 Secret, si sembra una realtà, Super, 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 common, questi non penso di darli anche se non do molte carte lo faccio lo stesso il sidebinder, il cerco nel canale delle informazioni cerco due dante, lo dico anche qui due dante e vabbè i mostri abyss usciti in alleanza dei due lanti gold gold, super super tutte e tre, delle quali un americano se non erro ultra una è ultimate ultra super 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 secret ultra da sneak se non sbaglio super super kaiser ultra super ultra poi vabbè qua ne sono due ma penso interessino poco però li ho messi qui qua tutto super ok qua l'angolo delle mie carte proibite che non do è figo amirlo quanto è figo in tedesco mamma in tedesco ma ho solo drash guarda quanto è aggressivo drash effetto veramente è drash quello questi non li do queste parallel queste ho visto che sono costano 6-5-1 non lo so però ho visto che sono giocate non lo so non fatemi sparbagionate queste non le do sono super ultra secret vabbè pre prebite secret super gold non la do ultra non la do ultra da turbo pack rara una super e due common una molto rovinata super 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 qua ne sono tre ultra secret ultra super super da tin devo ruttare ecco perché parlo così ecco sono delicato secret super mi sto a stangare secret common perché state qui spellbook non c'è più o se gioca ancora non lo so super secret super super o è secret super 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 ultra super ultra e perché stavo per dire escape the fate qua non so perché ultimate ultra ultra gold due super 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 e si finito vabbè qua c'è una base di sassardragon che tengo che è forte così vabbè vabbè ragazzi questo è ripeto volata la cosa dei pavesini ha spazzato via col vento i vistori vabbè il cerco ripeto nel canale cerco solo con le carte preferibilmente del cerco primario e niente lasciate un mi piace un commento magari meglio che mi contattiate su facebook per trattare con gli scambi e niente lasciate un mi piace un commento iscrivetevi al canale e arrivederci al prossimo video a